Buonasera da Sarocco di Ravremonte, il mondialito, ottava edizione, prima giornata, per Cati di Gola battono Bordeaux 10 a 1, migliore in campo Luca Palumbo, consegniamo una medaglia, complimenti Luca, senti, prestazione molto buona da parte vostra, subito vi siete capiti anche se siete due ragazzi nuovi. Questa è la prima volta che giochiamo insieme, però l'importante è che ha girato bene la palla, questa sera abbiamo giocato bene tutti quanti. Avete anche sciupato tanti gol? Questa è la cosa più brutta della partita, non importa che abbiamo vinto 10 a 0, ma dovevamo fare altri gol perché contro squadre migliori queste partite si perdono, abbiamo troppo date occasioni all'avversario. Anche questo volevo dire, anche in fase difensiva dovete ancora aggiustare qualcosa? Sì, sì, questa è la cosa più grande, ma anche io, fa niente che ho fatto migliore in campo, però ho sciupato troppe occasioni e non va bene. Senti, vabbè, ti sono trovato bene con i nuovi compagni. Sì, 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 questa è la cosa più importante. La tua squadra è campione in caldo, penso che te l'anno dire. Sì, 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 questo lo so e mi fa piacere che hanno scelto me come un altro sostituto, vi ringrazio. Vabbè, l'obiettivo allora è rimanere là nei vettici e difendere il tiro. Lo scudetto, saremo la Juve del campionato. No, no, l'interno abbiamo. No, dai, scherzo. Però lotteremo per arrivare il più in alto possibile. Ok, vuoi fare una dedica speciale a qualcuno? A mio figlio. Complimenti, Luca, ci vediamo la prossima. Grazie.